siamo nella cooperativa al babbio è una azienda costituita da circa 20 produttori in biologico siamo nati nel 2002 siamo cresciuti di tanto in questi anni siamo partiti che eravamo tre soci ora siamo circa 20 22 soci che conferiamo il prodotto nella nostra cooperativa facciamo tutto biologico produciamo una vasta gamma di pomodori in serra fra tutte le varietà che noi facciamo generalmente cerchiamo di impegnarci al massimo oltre a prodotti freschi facciamo anche una salsa di ciliegino usando il prodotto che purtroppo non possiamo usare sul mercato del fresco è un prodotto un po maturo troppo maturo che ha uno shelf life molto corto di conseguenza preferiamo non immetterlo sul fresco e trasformarlo in salsa e ottenere un buon prodotto un eccellente prodotto con le antiche ricette siciliane dei tramandati dai nostri dai nostri genitori dei nostri nonni noi abbiamo scelto il biologico perché in sicilia purtroppo non esisteva nel 95 96 tanto biologico siamo partiti da un piccolo test di cominciare con una piccola azienda vedendo fra i risultati del mercato e il rispetto per l'ambiente ci si affascina sempre di più perché rispettare l'ambiente e cercare di fare un prodotto sano senza nessun prodotto chimico nessun prodotto di sintesi per noi è il nostro impegno questo è il nostro impegno